Siamo alla vigilia di un importante appuntamento proprio sugli schermi di Teletruria perché verrà proiettato domani sera il film Memoria di un Eccidio, San Polo, 14 luglio 1944. Si tratta di una delle date storiche più brutte che riguardano proprio la nostra pelle e la nostra storia. Siamo con Alessandro Benci che è stato il regista di questo film. Intanto, com'è nata questa idea? L'idea è nata nel 2006 a seguito di una collaborazione istituzionale fra l'Istituto della Soprintendenza e l'Istituto d'Arte. Io lavoro per la Soprintendenza. In quell'occasione si stava progettando il nuovo monumento ai caduti di questo fatto. Io sono legato a San Polo per ricordi familiari e personali perché il nonno, quando ero bambino, mi portava d'estate a San Polo in bicicletta e mi raccontava di questi tragici fatti che erano occorsi in quei luoghi. Ritornando a San Polo dopo tanti anni, con sulle spalle questo tema da affrontare, mi venne l'idea di non utilizzare un nuovo mezzo più diretto per comunicare alle giovani generazioni quello che accadde in quei luoghi. Poi San Polo, al di là della tragicità del fatto, è un posto ed è un Eccidio poco conosciuto. Questo è un aspetto importante che lei sottolinea perché di fatto ce ne sono state molte di stragi in provincia di Arezzo, ricordo quella di Vallucciole, San Pancrazio, Civitella che forse è la più tragica di tutte, però l'Eccidio di San Polo è veramente quello più strano sotto certi aspetti anche bellici perché di fatto non venne preceduto da nessuna azione dei partigiani contro i tedeschi e di fatto fu proprio un'azione di puro esercizio di violenza. Sì, esatto quello che ha detto, non si riesce a trovare un motivo, se possiamo utilizzare una causa scatenante per questo gesto efferato.